La polizia parigina ha effettuato l'ennesimo sgombero di un accampamento di richiedenti asilo. All'alba di martedì gli agenti hanno invitato circa 100 giovani uomini ad abbandonare una tendopole improvvisata vicino al municipio di Parigi. Ai migranti è stato offerto un alloggio temporaneo per tre settimane ad Angers, a 250 km dalla capitale, ma solo due o tre uomini sono saliti sull'autobus. Le ONG che lavorano con i migranti e altre persone vulnerabili nella regione dicono che gli sgomberi si stanno intensificando in vista delle Olimpiadi di luglio e accusano le autorità di mettere in atto una campagna di pulizia sociale. La polizia di Parigi ha dichiarato che l'operazione è stata condotta per motivi di sicurezza e nega che lo sgombero sia legato ai giochi olimpici.